Praticamente un cliente telepass, perché è indispensabile essere clienti telepass, potrà registrarsi, cercarsi sullo smartphone o un'app, scaricarla, sul fatto di essere cliente telepass potrà inserire fino a tre targhe e una volta che uno trova il parcheggio e decide di parcheggiarsi, tramite l'app dove è inserito anche un geolocalizzatore, si inserisce dove si parcheggia e la durata del parcheggio. Facciamo un'ora e 15 minuti, procedo, ho già la targa inserita ma posso variarla, procedo, mi dà un alert, la durata minima per questa sosta eccetera eccetera, chiudo, non mostro più questo messaggio, procedo, inizia la nuova sosta, mi dà il preventivo di spesa, ecco qua il suono che abbiamo sentito, ha dato il via alla sosta. Infrastrutture e tecnologia un binomio imprescindibile. Ma certo, sa che noi abbiamo tre grandi tesori nella nostra città, sono uno il turismo, l'altro è l'alta tecnologia e su questo qua ci dobbiamo lavorare nella maniera più assoluta, perché questo qua è un servizio che potremo dare anche ai turisti che vengano a visitare la città e che possono finalmente pagarli in maniera molto più comoda.